Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioChamer89 Siamo tornati qua sul nuovo video di Fortnite ragazzi Oggi cerchiamo di arrivare a 50.000 like Perché non vinco una partita in singolo Da un sacco di tempo Oggi, stamattina ho provato 1 ora e 20 A registrare Non ho chiuso una partita e mi roto in sacco il culo Signori, battaglia reale Vi voglio far vedere una cosa Io adesso ho messo Tutto il mio armadietto randomico Vedete, praticamente mi crea lui Il nostro personaggio Quindi giocatore singolo Andiamo Signori, paracadute sulle spalle Ragazzotti, eccoci qua Visto che abbiamo l'opportunità di scendere qua Vi voglio portare A un nuovo pezzo di mappa Praticamente alla base missilistica Mi avete consigliato voi Appunto dove trovarla E alla fine l'ho trovata Infatti, vicino a spiagge Snob Guarda un po' là che c'è Guarda un po' là che c'è Quanta è bella Tutta bella viola Col missilotto Grosso, grosso, grosso Speriamo di trovare un'arma Perché ho visto tre persone là Ok, un pompa c'è Perfetto Aspetta, aspetta, aspetta Facciamo Facciamo le cose fatte per bene Perché Visto che sto riuscendo A farvi Vedere sta roba Taci L'altra bomba sto ragazzo no, eh Io non lascio niente per terra, regà Ok Ma questo lo posso lasciare qua Chi se ne frega Madonna Poi mi sembrava bello un cassato Quello Uh Questo però Ce lo possiamo prendere anche dopo Ah, è vero Perché qua sopra c'è una cassa Vi faccio Vedere Se noi rompiamo qua Più che altro da queste parti Guarda un po' Guarda un po' Che abbiamo trovato Quindi facciamo che questo me lo tolgo E faccio così Vedi? Vabbè Praticamente questa qua è la base vinstilistica Scusate se Non ho parlato molto Ma capite che ero molto Molto Concentrato Da qua Da qua Io vi consiglio Di andarvene Da sti pezzi Sperando di incontrare qualcuno Perché Uno vabbè Stiamo in piena safe Questo a noi fa solo che piacere Però purtroppo Sapete benissimo Che quando ci lasciamo Ci lanciamo In questi posti La possibilità di fare tante kill Diminuiscono notevolmente Ma pazienza Ok davanti A noi ce n'è uno Ok Aspetta 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 ceccio Aspetta Lasciamo così Non era male ragazzo Ve lo dico Non era male Veramente Ok Ah poi a un certo punto Non so se ci avete fatto caso Ma Mi si sono incastrate le costruzioni E me non cominciava A costruire al contrario La Abbiamo veramente rischiato Di perdere la partita Ma vabbè Allora ragazzi Là Sta succedendo qualcosa Di bellissimo Secondo me Cioè nel senso Che c'è qualcuno Che sa Probabilmente Giocare abbastanza bene Perché Le costruzioni Sono alte Quindi ipoteticamente Tutto parco pacifico Dovrebbe Dovrebbe Essere attratto Appunto Da quella costruzione Là Io sarei attratto Da quella costruzione Là E l'avevo vista Costruire Mentre venivo Quindi La possibilità Che effettivamente Ci sia qualcuno È alta Vediamo Ok Probabilmente È morto Allora Facciamo così Se non ci spara Nessuno Prendiamoci anche Questo Il doppio Pompa Il doppio Pompa Per il momento Me lo voglio togliere Peccato Che non ho trovato Il tizio Che stava qua Mi spiace Ma probabilmente È vivo Però Peccato Vabbè 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 Allora Dato che non trovo Nessuno È la cosa Che mi pare Più logica Andare verso Pinnacoli Perché sì Abbiamo fatto Due kill Di cui una Anzi Tutte e due Carine Però vorrei vedere Quindi c'è gente Che Che se lancia Gente che Se duffa Ok Diciamo Che Ok Questo qua Questo qua Ce lo siamo Fatto Cecchino Ma lo posso Prendere Non credo Che mi abbia Sparato Assolutamente Vedi Là c'è uno Che C'è uno Che Ci vuole Prendere Due pizze Allora Quello Non mi serve Quello Non mi serve Quello Non mi serve Preferisco Preferisco Procedere Così Ok Quindi qua Sto abbastanza Coperto Prendo pure Un medikit Facciamo Ziculino Ziculetto Se sa Mai Rischiato Sotto La ho Rischiato Veramente Qui l'hanno Finito Tutti Va bene È comprensibile La cosa Sicuramente Tra di me Arriverà Qualcuno Alla c'è La jump Prenderei Questa Simpatica Jump E ritornerei Nei mie Alloggi Materiali Ce li abbiamo Armi Non ne abbiamo Tante Però Diciamo che Quelle più Importante Ce li abbiamo Qui Qui Potrebbe Arrivare parecchia Gente Vedremo 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 Eccolo Ok Ok Beh un minimo Comunque Sa giocare Questo Che Che sia Incredibilmente Forte Oppure No Non lo Possiamo Sapere Vedremo Comunque Sta Va bene Quindi Per il momento C'ho Tutto Non mi sembra Che Devo Vedere Altro Ripeto Non mi Sembra Voglio Vedere Se Tante Volte No Non mi Sembra Forse Da pinnacoli Potrei Vedere Una cosa Del genere Forse Da davanti A me Comunque Boh Non lo so Allora La safe Si è chiusa E questa E questa qua È la safe Finale Siamo rimasti In nove Compreso Me Non siamo Tanti Io Non mi fido Per niente Del fattore Che qua sotto Ci potrebbe Sta qualcuno Però Mi pare Strano Che ci sia Qualcuno Perché Se non Mi ha Attaccato Quando ho Fatto Tutto Quel Casino Perché Mi dovrebbe Attacca Mo Eh Sono ragionamenti Comunque Da farsi Questi qua Ma che Sei matto Mortacci Tua Sto Criminale Ragazzi Uno che fa Così È Un criminale Guarda Ce n'ha Due Perché Non so Non so Se prendermi Il lanciarazzi Secondo me No Perché Medikit Mi possono Servire Però Ok Dai Me la voglio Rischiare un po' Comunque Questo è un matto Raga Cioè Attaccarmi così Prepotentemente Da sotto A sopra Sei un folle O sei un genio Cioè Vedi che ho fatto bene Siamo rimasti In sette Siamo rimasti In sei Non ho fatto Tante kill Però Però So good Abbastanza So good Vorrei Accentrarmi Un pochino Di più Vediamo Qua parte Ok A parte Il momento Dove sto Abbastanza Zitto Taci Mia Ed è sto Cecchino Che merda Perché L'headshot Io l'ho fatta Ma Pensavo di avere Quell'altro Cecchino Capito Come Rischio Rischio tantissimo Così Vedi Sta là sotto Sta là sotto E che gli dico Proviamo Lui mi vuole Morto 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 Ragazzi Lui mi vuole Mortissimo E ci sta E ci sta Tantissimo Siamo Sei Veramente HP Vedi Ah l'hanno Ammazzato Beh Se non so Stato Gli è stato Qualcun altro A me va bene Comunque Siamo Che me frega Ora ce lo andiamo A lutare Perché gli hanno Tirato una bella Buttarella Ho fatto un Headshot Regà Mi sembra Da là Vedi Il cadavere Questo Molto Buono Adesso Me lo prendo E mo Se deve Dobbiamo lavorare Una cifra Regà Perché Ok L'ho Vesta Eh Eh ragazzi Brutta Brutta Situazione Vedetevi Che brutta In quattro Siamo rimasti Vedi Uno sta là Questa partita La vedo Molto Da 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 camper Sinceramente Lui sta Tipo là Vedi Non te vedi Te vedi Ti vedi Ti vedi Sì Allora Diciamo che Mi era un po' impiccieto Devo capire Dove è l'ultimo Diciamo Oh Che bello Finalmente Regà Vaffanculo Vai vai Mamma mia Ho rischiato tantissimo Rischiato Alla follia ragazzi È stato bravo lui A continuare ad andare su Io non so perché Mi sono fermato È stato bravo lui A continuare su Io sono stato un po' più bravo A capire che ormai Non potevo costruire Poi vi stavo fatto Una finestra E gli ho dato giù A manetta col pompa Va bene Oh yeah Ho chiuso una partita Yeah Ah yeah così Ah yeah così Ecco così è meglio Oh baby Signori se il video Vi è piaciuto Mi raccomando Pollicione su Commentate Non dite se Se siete iscriviti Al prossimo appuntamento A prossimo Ciao ciao